a milano durante il weekend del 16 e 17 ottobre 2021 ha vinto l'alta fedeltà nell'audio e nel video e hanno vinto anche i distributori ancora un po troppo pochi ma soprattutto i rivenditori questi in effetti piuttosto numerosi che hanno creduto nella perseveranza e secondo alcuni anche nella folle incoscienza di stefano zaini organizzatore della più interessante più longeva manifestazione italiana dedicata all'alta fedeltà non poter male a me credevi ming che la roba insieme bello bello dai bello che soddisfazione bello bello mi piace era un'incognita o non veniva nessuno veniva al mondo dopo due anni evidentemente il mondo audiofilo si è svegliato evviva il successo del milano ai fideliti 2021 è prima di tutto nei numeri con più del doppio di visitatori rispetto alle proiezioni migliori probabilmente tutti noi non avevamo fatti conti con la grande voglia di socialità di incontrarsi di nuovo fisicamente per condividere la passione comune per l'alta fedeltà anche per sfogliare le numerose copertine dei vinili ovviamente senza mai dimenticare la disinfezione delle mani ci sono poi gli ottimi commenti sia da parte degli espositori sia del pubblico che hanno seguito ordinatamente diligentemente le imposizioni per il controllo della pandemia i tre piani dell'hotel melià riservati al milano ai fideliti alle varie sale dedicate alle varie installazioni erano tutte caratterizzate da un numero chiuso tutto questo ha creato lunghissime code non solo per il controllo del green pass e dei documenti per l'accesso all'hotel ma soprattutto per sopraggiunti limiti di capienza della struttura già il sabato mattina alle 10 e 15 c'erano già 900 persone all'interno dell'hotel e delle sale lo stop ha creato non pochi disagi con persone che hanno atteso più di un'ora prima di poter entrare all'interno dell'hotel nei prossimi giorni su avv magazine sul nostro canale youtube pubblicheremo reportage approfondimenti e una nutrita serie di interviste con i protagonisti di quest'ultima edizione nel frattempo vi ricordiamo il prossimo appuntamento per sabato 27 e domenica 28 novembre all'hotel mercur west di roma per il roma ai fideliti 2021 dove saremo presenti ancora una volta con una serie di iniziative per coinvolgere anche e soprattutto il pubblico da casa grazie a tutti